Festival Show, l'anteprima. In collegamento del track delle nostre radio e di Festival Show arriva a trovarci anche un'altra nostra grande amica che è Elenia Lucisano, benvenuta. Grazie, bentrovati. Arrivi da un successo grande come quello del palco del primo maggio dove hai lanciato un messaggio ben preciso. Si parla di fare attenzione alle donne e di non usare violenza contro le donne. Sì, in realtà era un messaggio appunto contro la violenza sulle donne in un palco dove si parla spesso di diritti, quindi ho voluto un po' portare questa tematica molto forte e importante, essendo una delle poche donne che era su quel palco. Infatti qualcuno ha fatto anche questa polemica, ha detto come mai avete invitato così poche donne ma fra le poche presenti c'eri tu. Beh sì, non mi posso lamentare, nel senso sicuramente gli altri anni presteranno molto più attenzione a questa discrepanza che c'è stata, quindi è servita anche un po' la polemica secondo me. Sarà stato comunque un modo per far suonare un campanello. È uscito Punta da un chiodo in un campo di papaveri. Un titolo pazzesco. Sì, un titolo assurdo e appunto dico ma perché ho dato questo titolo? No, però effettivamente non mi pento, anche per collegarmi un po' al singolo, perché più che un titolo ho voluto dare un'immagine, un'immagine forte, un qualcosa in cui chi legge può già immergersi, immarsi nel mondo psichedelico, nirico, un po' surreale del disco, immergersi in questa piccola fiabba e scatenare magari la propria fantasia, cosa che secondo me oggi la musica deve assolutamente fare, quindi far scattare la fantasia di chi ascolta. Questa sera arrivi sul nostro palco presentando Non mi pento, di che cosa non ti sei mai pentita nella vita? Tendenzialmente per essere coerente con la canzone non mi pento di niente, perché tutti gli orari che ho fatto mi hanno portato ad essere qui oggi, ad essere molto più consapevole di me stessa, quindi non mi pento, non mi pento. Allora questa sera non ci pentiamo neanche noi e vediamo ad ascoltarti sul palco di Festival Show, ci sarà Ilenia Lucisano con Non mi pento, grazie Ilenia. Grazie a voi, ciao.